Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Contatori del Tempo, una puntata in esterna. Siamo a Via Reggio perché andiamo a trovare come spesso accade l'amico Giacomo, cioè il titolare della gioielleria Pasquali Domenici, che parte un ufficiale del canale e vi offre anche un trattamento di favore a voi, a voi che state guardando. Allora, siamo qua perché noi dobbiamo andare a vedere, cosa andiamo a vedere Piero? Cosa andiamo a vedere? Cosa ne so io? C'è anche l'amico Piero come al solito perché purtroppo ci vuole un omino che tiene questa cosa qua, eccolo qua l'omino. Ciao amici! Amici, che orologino abbiamo? Oyer 844, ah bellissimo questo, automatico. Era un po' che non lo mettevo. Sì, sei riuscito a distaccarti dall'altro Pasadina? No, in realtà l'ho messo solo per oggi perché sennò poi passo per scemo che metto sempre il solito orologio. Bravo! Invece ho trovato l'orologio della mia vita che è quel lawyer Pasadina e non riesco a farne a me. Bravo, ascoltami a me. Cosa andiamo a fare oggi? Cosa ne so io? Non mi dici mai niente. Ma come ti dico mai niente? No, non mi hai detto niente. Allora, vabbè, intanto andiamo a vedere, no? Cosa, la chiesa? Le novità. Ah, pensavo la chiesa che stiamo qua. C'è la chiesa qua, la vedi la chiesa? Ah sì, ma il mio orologio del giorno non me lo fai vedere? No. Dai, facciamolo vedere gli altri. Ah, sì, sì, questo sì. Loris Mare Nostrum, Big Crown, Pointer Date, tutto quello che vi pare. Che bronzo. Che bel blu. Con il cinturino di squalo realizzato dall'amico John Coolstrap. Bravo, il commercial l'abbiamo fatto. Là. Bello, eh? È bello, sì. Andiamo a vedere le novità, ma soprattutto perché Giacomo ha preso in concessione un nuovo marchio. D'altro. D'altro. E gli piace per gli piace. Si tratta di Alpina. Ah, bello, mi piace. Questa è una bella cosa. Allora, parlami della storia di Alpina. Alpina nasce nel 1700... no. Adesso io ho visto gli orologi e sono belli. Sono belli, sono belli. Le pubblicità. Alpina è una casa storica, sì, nata nel 1800, bla bla bla. Ha fatto tutta la storia dell'orologeria svizzera per poi arrivare alla crisi del quarto, dove è passata poi di mano, fino ad arrivare al 2002, che è stata acquistata da Frédéric Costant. Ah dai. Ah. Frédéric Costant. E poi ora fanno parte, entrambe fanno parte del gruppo Citizen, perché l'ha acquistata il Citizen, capito? Ah, ma a te non ti compra mai nessuno, vedo, eh. Tutti comprano. Tra le altre cose è una curiosità, la vuoi sapere? Sì. In Svizzera la sede di Frédéric Costant e di Alpina sono nello stesso stabile. Praticamente una facciata c'è scritto Frédéric Costant e quell'altra Alpina. Ah. Quindi costicchiaranno anche un po'. Siamo sulla fascia di prezzo appunto di Frédéric Costant, siamo lì. Non è che è la marca di serie B. Sono equivalenti, diciamo. Equivalenti fino a un certo punto, perché Frédéric Costant fa anche i calibri di manifattura, cosa che Alpina non fa, però... Sono belli, belli e sono belli. Ora li vediamo. Poi io quando c'è un marchio nuovo, che non li ho mai toccati con mano, quindi non ho idea di come... di come siano la consistenza, no? Quando c'è un marchio nuovo che poi... si possono prendere degli orologini anche da portare a casa, fare una panoramica è sempre qualcosa di... interessante, perlomeno per me. Però prima di andare in negozio cosa possiamo fare? Caffè, come sempre. Dalla nostra amica. Paghi te? No. Oggi no, oggi sono povero. Vabbè, sono gli spiccioli avanzati da... Da che? Da casello. Ah, pensavo alla chiesa. Chiesa? E chissà, era prima lì? Volevo entrare per quello io, per prendere gli spiccioli. Bravo Piero, così ti voglio. Una volta rubavi gli orologi, ora gli spiccioli. Eh sì. Magari qualche tuo follower ce l'ha lasciato pagato. È successo una volta, noi ci speravamo. Tre volte è successo. Ah sì? Sì. Cioè, due volte, ma una volta hanno pagato... no. Sai che non mi ricordo più? Mi pare uno. Eh... no, un'altra volta è uguale. Due caffè avevamo pagato. Una volta solo uno, non mi ricordo più. Poi, se c'è qualche orologio da vedere, qualche novità... Anche degli usati, no? Non lo so, gli usati come messo. Io sto aspettando anche di avere per le mani quel bel Tissot PR516 Diver, che è veramente bello. Non l'ho visto. Ci sarà la nostra amica? Sì. Buongiorno. 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 Ciao Piero, come stai? Io bene, tu... Come eri bello con la farutta. Io sono sempre bello. È vero? L'hai mai visto quello che fa? Come eri bello. Gli dà la bottiglia e ti dice, io sono bellissimo! No, l'hai visto. L'ho visto? L'hai visto? L'ha visto? Alessandro Borghese. Vabbè, cosa prendiamo? Eh, cosa prendiamo? Ha già fatto tutto lei, lo sa. Lo sa a memoria cosa vogliamo. E anche lui, guardalo. L'hai visto? Che spettacolo. Ma facciamo? Ma vai lì giù? Eh, tocca a me. Iddu. Paga iddu. Quanto abbiamo? Un bacino? È ruffia. Eccolo lì. Questo qua lo facciamo vedere la Monica, eh? Ecco. A voi. Ciao. Ciao. A dopo. Ecco, è sempre più bassa quella saccinesca, eh? È sempre il trucco come per ballare così. È così sbatto la testa come sempre. Guarda come si fa, eh? Eh, guarda come si fa, vai che c'è in età, eh? Io non lo faccio, eh. Io faccio così e rimango fuori. Allora ragazzi, eccoci qua all'interno della baracchetta degli orologi con il buon Giacomo che è il proprietario, anche il nostro Cicerone all'interno del mondo, degli oggetti di ferro che tanto ci piacciono. Tutti quelli con l'ingranaggini dentro che… tutti ingranaggini, vero ci sono oggi? Eh, quasi tutti ingranaggini. Quasi tutti ingranaggini. cominciamo già alle cole coltellate nella schiena e ci sono orologi per tutti i gusti belli e brutti tutti i gusti però la novità principale che io ho già spiegato nell'introduzione fuori per la strada con l'amico Piero che sta tenendo in mano la telecamera come disse Cicciolina la novità è Alpina che è il nuovo marchio in concessione che fa parte di Federico Stamper nel 2002 è stata acquistata da Federico Stamper sappiamo che poi fa capo tutto il gruppo Citizen giapponese però queste qui sono le uniche due marche che mantengono le tradizioni orologiere svizzere sicché totalmente produzione Swiss made sono dei vecchi marchi storici insieme a Federico Stamper che ovviamente sono stati rilevati e continua la tradizione sia estetica sia di costruzione interna che aveva il vecchio brand sì infatti l'ho detto che nell'apertura la curiosità è che se ti guardi vai con Google Map con Street View ti butti in Svizzera e vai a vedere dove è Federico Stamper c'è un cappannone nel quale di qua c'è scritto Federico Stamper e di là c'è scritto Alpina sì perché è logico poi hanno fatto la manifattura la manifattura integrata in modo da poter avere un punto logistico unico queste sono le mosse intelligenti da fare quindi possiamo già dare un'occhiatina a questi nuovi Alpina che io quando ci sono gli orologi nuovi che non ho mai visto in vita mia prima volta che li vedo sono sempre abbastanza diciamo gasato eh gasato da dove possiamo cominciare? allora io direi di partire dalla linea principale e qual è? che è l'Alpiner Alpiner poi non sappiamo come si pronuncia ma noi ci lanciamo noi ci lanciamo siamo temerari siamo allora guardiamo un po' di trovarne uno allora possiamo partire anche da questo poi magari vedere qualche variante questo nello specifico è un orologio un pochino più complicato perché è un regolatore quindi praticamente bello allora praticamente cosa abbiamo? abbiamo la sfera delle ore che è al centro del quadrante no la sfera delle ore è ore 10 è quella qua sulle 12 ore è questa qua poi la sfera dei minuti che è al centro e poi la sfera dei secondi continui che è a ore 6 praticamente per essere un regolatore siamo abituati a vedere i regolatori declinati in versioni classiche non formali eleganti questo qua è un regolatore sportivo uno di quelli che chiunque potrebbe indossare al polso tranquillamente perché guardate la forma della cassa come è particolare qua si gioca molto sui piani inclinati che si intrecciano si intersecano eccetera 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 ci piace? un secondo volevo dire i calibri Alpina incassa tutti i calibri sellita poi vabbè ci sono i cronografi sellita sv500 eccetera eccetera qui la differenza di Federico Stant non ha calibri di manifattura però bello guarda qua la corona con il pezzettino in gomma per evitare la perdita del grip fondelli trasparenti lì ci siamo abituati ormai bello bracciale integrato simpatico questo qua ma questo questo Alpiner qua viene anche ci sono anche altre configurazioni si ci sono anche configurazioni normali oppure quella che è un pochino più iconica per quanto riguarda il marchio la Seastrong la Seastrong il Diver si che è la versione Diver però parte sempre ovviamente da quella forma lì un pochino squadrata se la vogliamo definire così però con l'aggiunta ovviamente della ghiera girevole e un'impermeabilità superiore ascolta ma il livello di prezzi di Alpina qual è? insomma siamo lì come Federico Stant più o meno quello come la maggior parte dei marchi svizzeri 2000 l'Enterprise quale sarebbe? all'Enterprise ci sono delle linee heritage che dopo faremo vedere sono quelle meno costose si qua quei Diver si va già su 2000 e passa però guardate qualche bel quadrante c'è anche una certa personalità al di là della ghiera qua che ricorda un po' lo Yachtmaster versione quella una versione di Yachtmaster che è così ma per il resto qua fondello chiuso accidenti si sono quasi tutti i fondelli chiusi quello là probabilmente per farci vedere il calibro che è un Sellit sv200 ma sicuramente l'hanno modificato particolarmente perché per far da regolatore bello il Diver mi piace mi piace devo essere sincero si tra l'altro ha questo bracciale integrato però leggermente curvo all'attacco sicché diventa abbastanza anatomico anche come forma segue un po' la forma del polso viene abbastanza giù in verticale ci piace belli questi Alpiner 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 4 invece è una derivazione un pochino più classica come forma un pochino più rotondeggiante sempre un orologio sportivo però con diciamo una forma meno estrema si la ghiera color acciaio ci piace tanto la ghiera color acciaio anche un feedback differente rispetto a quella nera di prima particolare anche qua stiamo parlando di Sellit sv200 fondello chiuso chiusura farfalla e qui il prezzo si abbassa notevolmente 1395 1395 interessante lo senti a casa non riescono a vederlo però al tatto si sente già che è un orologio consistente ben fatto non si sono risparmiati sul metallo sicché sull'acciaio inox il prodotto ben realizzato con la con la sua chiusurina a farfalla sotto un prodotto bello diverse tonalità di colore come offerta il blu il nero tra l'altro anche il quadrante visto da vicino ha una lavorazione molto particolare non so se si esce a far vedere dalla camera è tutto a righine si 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 a tapparella a tapparella ci piace questa è clonata ora a tapparella o è o è un tipico un tipico termine francese per indicare i quadrante svizzero a tapparella si dice è bello anche originale come aspetto cioè non è che va a riprendere a ricordare qualcosa è particolare poi i diametri ne abbiamo parlato ma non lo so quante saranno questi poi vediamo e poi magari uno lo piglio da portare a casa certo se ti va se ti va così voi vedrete magari una panoramica un po' più estesa andiamo a sfrucugliare nei dettagli perché non so nemmeno quale scegliere perché sono belli allora prima hai chiesto hai fatto una domanda qual è l'enterprise del prodotto è la linea pilot è pilot si vede che è un pilot la linea pilot è con 1195 euro no 1095 1195 ah no scusa hai ragione perché quello lì è la versione con cassa acciaio e poi c'è cassa acciaio brunita costa leggermente questa qua è la cassa acciaio brunita si qualcosa in più vediamo la differenza 100 euro in più per la cassa di acciaio brunito dietro la differenza ma anche questo qua con l'acciaio normale non è male è il classico pilot con la leggibilità perfetta il dattario a ore 6 sopra il 6 proprio c'è anche il marker a ore 12 che è in rilievo il triangolo è in rilievo non so se si vede ma è in rilievo è girevole la ghiera no è una lunetta fissa giustamente è un pilot fondello chiuso con le montagne perché alpina è stato fondato da gli orologi che l'hanno fondato erano alpinisti cioè avevano la passione dell'alpinismo e quindi decisero di dare un nome al marchio alpina come simbolo c'è le montagne dietro lo vedete bello leggibile molto leggibile simpatico il pilot arriva solamente con con i cinturini niente bracciali no però questo questo cinturino qua tecnico è veramente particolare secondo me si è adatto guardate qua che bello questo cinturino qua tecnico chiaramente questo qua è montato sull'acciaio brunito su quello un po' più scuro però comunque ora a breve troverete già tutto sul sito sicché con tutti i dettagli bello numeri a rilievo alpina poi ultima famiglia che va a completare il marchio è una famiglia Riteggio ovviamente con un'estetica dedicata agli orologi del passato abbiamo due prodotti uno proprio classico classico che a me piace moltissimo per il colore il doppio colore di cui è formato il quadrante bisogna mettere l'orario alle 10 e 10 ragazzi perché noi siamo precisi 10 e 10 vediamo un po' di carico si ma sbrigati perché poi cammina e si sposta eccolo qua sarà il riteggio questo qua il classico quadrante sector dial come viene definito c'è scritto 26 joules quindi chiaramente il 6 v200 che però non vediamo perché il fondello è chiuso come ci piace a noi fondello chiuso anzi squadrate sfere azzurate questo quadrante è stupendo si senza data così è veramente particolare ora no questo qua sarà un 38 mm secondo me sarà 38 mm si 38 39 bello lo volete vedere al polso? lo vogliono vedere al polso ho sentito l'eco che arrivava cacchio ormai a forza di fare i video senti anche i follower da casa si senti anche altro ecco Piero fai qualcosa di utile nella vita come sta? è bello è bello questo posizione davidi cecchini come faccio? lo tieni e fai la posizione davidi cecchini c'è il riflesso è molto bello dovresti portare questo a fare la recensione dici? a me piace cioè le persone sono due sono molto belle vogliate sono un po' più particolari vabbè e vieni poi poi sempre famiglia heritage due corone diver 300 metri due corone il classico si seestrong automatico quant'è? 300 metri? è il legend di Alpina questo si abbiamo entrambe entrambe le corone a vita sia quella che deputata a far ruotare la bag interna sia quella per caricare l'orologio sono entrambe la vita eccolo qua l'interpretazione di Alpina di un diver a due corone con un bug interno classico puoi vedere la finitura? finitura veramente spazzolata esterno che ci piace tanto fondello chiuso che qua praticamente c'hanno tutti i fondelli chiusi cosa che mi piace molto è questo cinturino qui che riprende una trama in tessuto ma invece è tutto in gomma è in gomma che fuori si si veramente particolare ricorda il tessuto ma è una gomma lo preferisco perché così non si bagna asciuga subito è idrorepellente se hai un diver a 300 metri finalmente qualcuno ci ha pensato a fare i cinturini idrorepellenti perché a volte te li vendono con quelli di pelle che insomma dove vai tra l'altro molto bello sotto anche il grip che c'ha nella lavorazione questo qua sotto serve per far uscire l'acqua per far scivolare l'acqua sotto il polso senza andare a creare particolare fastidio bello bello sto qua vorrei essere anche indeciso vabbè vediamo dopo vuoi dire che più questo è il più boh vabbè vediamo ma posso prendere anche poi l'ho visto il mio roso del giorno no io non l'avevo visto volevo dirlo già con quello roso del giorno non è del giorno è l'orologio dell'ora perché poi me lo levo lo sapete devo fare degli esercizi di respirazione sicché avevo bisogno di un crono semplice come funzionamento che siccome sono scarso mi potesse dare un dettaglio a livello non di secondi ma di millesimi di secondo ma no ci volevo un rattrappante qualcosa un bel cronografo ma è meccanico dopo ci vuole la lente per legge sai che sono anziano va bene dai poi abbiamo visto questa novità alpina bellissimi è tutto ovviamente a famiglia completa poi ci sono anche delle varianti che vedrete o sul loro sito o sul nostro c'è quello bianco qua il due corone bianco sono tutti sono tutti acquistabili tutti ordinabili perché siamo diventati concessionari autorizzati del marchio sicché ecco da oggi potete farci tutte le richieste che volete visto che stiamo parlando di novità abbiamo qualche altro orologio di marche che già trattavamo ma che ovviamente hanno fatto uscire alcuni modelli nuovi sicché ora ve le presentiamo vi facciamo vedere ci divertiamo a vedere un po' di cose particolari allora direi Armani Colette che è un marchio molto particolare si trova anche poco in giro sicché siamo onorati ovviamente di lavorarci insieme è un prodotto che come conformazione di cassa abbiamo già visto e questa è la versione scheletrata e devo dire che è stupendo hanno fatto un lavoro meraviglioso un po' per il tipo di lavorazione che hanno dato al quadrante che permette poi di vedere la meccanica sottostante ma soprattutto per il contrasto di colori che hanno creato con queste piccole bordature sugli oblò si possono dire ramati come colore veramente bello più che il calibro scheletrato è il quadrante che è scheletrato in una maniera particolare praticamente c'è il logo qua sotto lo vedete qua sotto la sfera dei minuti c'è il logo stilizzato di Armani Nicolette io non sono amante dei quadranti scheletrati ma devo dire che questo qua è abbastanza leggibile perlomeno leggibile lo è dai è un minimo e cari lo sa sempre il solito se l'itsv200 chiaramente 26 rubini si è lui e se l'itsv200 che qua viene declinato così per essere messo in mostra soprattutto col bilanciere la sua ore 12 particolare si è molto bello prodotto veramente interessante e non è in edizione limitata questo no non è una tiratura aperta bello mi è piaciuto veramente tanto esiste anche la variante con il bracciale in acciaio secondo me la sua morte è con questo cinturino in gomma volendo si possono mettere anche i cinturini in pelle ci sono tre varianti dello stesso modello come allestimento colori o bracciali diciamo così e poi prodotto che avevo già in negozio in una forma molto diversa ve l'avevamo già presentato chi è venuto l'ha visto anche durante il watch meeting solar acqua ce le ricordiamo orologi diver 2000 e passa metri di profondità ovviamente hanno tirato fuori una seconda edizione un modello totalmente nuovo il marchio ovviamente è sempre solar acqua anche questo questo qui è un 200 metri di profondità sono diversi colori viene declinato in 5 colorazioni diverse ogni colorazione viene prodotto in una tiratura limitata di 300 esemplari questo è rosso esiste il bianco il blu il nero sì che ecco ci sono tantissime varianti sul tema questa è la versione con la cassa acciaio e la lunetta in carbonio ovviamente è una lunetta fissa che fa parte della cassa oppure se no c'è la versione cassa acciaio pvd lunetta sempre in carbonio ora io stavo cercando un movimento sellita sv200 ora stavo cercando di capire come si legge l'orario e praticamente nella freccia che è più verso l'esterno è quella che legge l'ora quindi qua è mezzogiorno e 10 in questo momento oppure mezzogiorno preciso oppure in questo momento sono le 2 e 20 poi abbiamo quella diciamo quell'elica centrale che invece fa da secondiera e ovviamente quando l'orologio è carico è sempre in movimento e gira continua a girare è molto particolare come vedete il quadrante ha questa mascherina riportata e abitata sopra su cui poi dopo si sviluppa all'interno e all'esterno tutta la lettura dell'orario mascherina intendi quella cosa con le tre gambe si con i tre ponti vedi che si vanno ad abitare sul quadrante sottostante ovviamente è una costruzione molto particolare come è molto particolare la cassa perché vedi anche le anze sono svuotate sono lavorate alleggerite in modo da alleggerire tutta la cassa devo dire che è molto moderno sembra un po' uno strumento tecnico un telaio da corsa se lo vogliamo chiamare così mi piace molto anche in relazione al prezzo è un orologio che esce in Italia perché in Italia hanno voluto dedicare un prezzo di lancio a 980 euro come prezzo di listino mi sembra veramente un prezzo eccezionale poi al di là che possa piacere o no però sinceramente con tutte queste caratteristiche l'orlogio ha un prezzo veramente accessibile comunque sia monta un sellita è totalmente un Swiss made è 200 metri di impermeabilità con corona vite 300 pezzi tiratura limitata cada colore i colori quali sono i colori allora te hai il rosso qui c'è il bianco esiste il full black full black poi esiste una versione blu e un altro colore che non mi ricordo devo essere sincero che me l'hanno spediti ieri dalla Svizzera comunque c'è da dire che il punto forte di questo di questi orologi è il design anche in questo caso può piacere può non piacere ci si mette al pulso un qualcosa di originale di poco visto poi da qui a saper leggere l'orario ce ne passa però a volte non sarebbe nemmeno leggere l'orario tra l'altro colgo l'occasione visto che hai cinturini cinturino classico così tranciato da muta vedi addirittura con delle tacche molto ravvicinate in modo che poi dopo si possa fare in qualsiasi situazione la misura ideale addirittura per gli orologi creati per stare sopra una muta la muta quando poi dopo ci si immerge si restringe si che qui si ha la possibilità con un semplice gesto poi di continuare a stringere e rimettere a misura l'orologio se necessario sott'acqua simpatici sì volevo voglio cogliere occasione per dire che l'orologeria poi alla fine non è solo movimenti non è solo produzioni svizzeri piuttosto che altri paesi ma è tanto design e qui ovviamente hanno voluto fare lanciarsi un design un pochino diverso che non si è ancora visto sì voglio dire io sono un portavandiera del design quello classico semplice così però mi rendo anche conto che bisogna andare un po' oltre come ad esempio ne abbiamo parlato spesso del gruppo ardito perché c'è lì c'è il dito perché è una novità l'orologio si chiama centauro è l'ultimo nato della famiglia ardito o Gav del gruppo Gav l'avevate già visto al watch meeting era la campionatura finalmente è finito è pronto per la vendita e questo è il primo che ci è arrivato in negozio ovviamente l'orologio rispecchia totalmente lo stile ardito sì fa parte della della collezione slim quelli sottili no? sì no sappiamo che gruppo ardito è famosa per fare orologi massicci no? quanto è di impermeabilità questo qua? 2000 metri ora così non così quindi lo sappiamo benissimo stavo scherzando che loro fanno orologi di presenza che è presenza a dir poco è il primo cronografo della casa che presentano perché fino ad ora hanno presentato diver massicci il lince che è un pochino meno massiccio quello un pochino più civile per tutti gli occhi diciamo e ora nel cronografo si lanciano di nuovo con questa oddio la forma è riconoscibile il design è quello di gruppo ardito però il cronografo è una novità tra l'altro con pulsanti a vite funzionali questo è fatto bene a dirlo perché non ci avevo pensato d'altronde se sei garantito per 2000 metri tanto ci dovrebbe avere anche una tacchetta rossa che va ad indicare l'apertura e la chiusura si vede la base quando è rossa vuol dire che è aperto e quindi si può dare la via al cronografo che parte lo si stoppa e poi per fermarlo bisogna svitare l'altra insomma devono essere svitate per utilizzarlo poi quando si entra in acqua vanno riavitate perché se vai a 2000 metri con i pulsanti svitati l'orologio fa spluff spluff si chiama centauro un nome totalmente nuovo io penso che l'idea di base siano partiti come estetica da un lince e poi ovviamente abbiamo allargato le dimensioni per ospitare la meccanica cronografica e ovviamente per poter permettere l'orologio di raggiungere i 2000 metri di impermeabilità ma soprattutto poi di ospitare i pulsanti con le viti funzionali c'è tutta una serie di dettagli che ovviamente hanno anabolizzato un pochino l'orologio nelle sue forme comunque ancora dire che i nomi sono tutti i nomi di mezzi militari dell'esercito italiano perché lince e centauro sono i mezzi militari se lo sapevate adesso direi che abbiamo finito vero? no c'è la chicca dedicata a Piero Piero l'ha già vista in vetrina ha detto mi piacciono tantissimo bellissimo si chiamano ex equo li abbiamo già sul sito sono gli orologi che odia Davide ovviamente perché sono al quarzo perché hanno le forme strane ma come dicevo prima l'orologeria non è solo meccanica non è solo ovviamente marche solo brand ma è anche tanta estetica questo qui ovviamente è un orologio particolarissimo fallo vedere in camera per me questo qua è come l'aglio per i vampiri l'orologio sciolto strutto senza forma come diceva Piero cos'è Salvatore Dalì un opera di Salvatore Dalì viene ripreso un pochino dai quadri di Salvatore Dalì che le disegnava questi orologi tutti sciolti appoggiati ovviamente melting watch infatti vuol dire orologio sciolto fuso fuso eh dai si potrebbe fondere anche in un microonde però ovviamente colori da perdere la testa qua ci siamo già scusa è questo tipo di orologio qua qual è il cliente tipo? a chi è dedicato? allora intanto intanto dobbiamo fare un passo indietro è un orologio che esisteva già era stato fatto aveva avuto un grandissimo successo oggi viene replicato tra l'altro se guardate online esistono dei modelli originali venduti a cifre per il prodotto che è veramente folli perché si parla addirittura di migliaia di euro per i prodotti originali questo ovviamente è il rifacimento della versione precedente è un orologio che costa 400 e qualche spicciolo 480 sì sicché ovviamente è un orologino che si compra senza svenarsi per chi ovviamente volesse un orologio esteticamente particolare questo è un orologio veramente interessante come vi ripeto non è frutto di un'innovazione attuale perché riprende un vecchio orologio con le stesse forme estetiche che era già stato fatto loro oggi lo ripresentano tra l'altro stanno avendo anche un buon successo perché tanti cercavano l'originale non volevano spendere quelle cifre là sicché ora oggi lo possono riacquistare ma non è da donna più che altro ma visto che si sta vendendo anche da uomo perché comunque sia una misura unica proposta poi in diverse declinazioni di colori più o meno maschili sicché va bene però ora mi colpiva questo qua che ho detto ho visto il fondello è a oro ho detto cazzo è tutto oro no è placato ma c'è anche il fondello placato è un'unica che è rara il fondello placato anche lui va bene questi qua sono orologi io li chiamo fan watch orologi divertimento come uno si compra l'omega moon swatch di plastica oppure black pan quello della swatch si prende anche questi qua o come era anche il tide della maresi la cola di plastica allora io devo dire la verità non con questa forma diciamo abbastanza particolare però con forme molto simili ho visto orologi di marche più prestigiose vendute a cifre molto molto più costosi questo naturalmente con la meccanica all'interno senza ovviamente il circuitino al quarzo però tante tanti brand si lanciano poi se vogliamo al di là poi della della particolarità tecnica se pensiamo al Bulgari l'octofinissimo la Bulgari si è lanciata in un'estetica molto particolare con grande coraggio anche perché l'orologio poteva piacere come in effetti è stato perché ne hanno venduti molti che stiamo parlando di orologi che vanno dagli 11.000-15.000 euro come poteva veramente essere un flop e aver buttato milioni e milioni di euro nel cestino perché poi fare un orologio di design vuol dire spendere tanto anche a livello di realizzazione di segni grafici test c'è tutta una serie di requisiti che ovviamente facendo un orologio tondo diventa tutto molto più semplice non ci scordiamo che se vogliamo andare nel banale ci sono dei cataloghi interi cinesi dove voi potete andare lì scegliere la cassa scegliere il quadrante decidere che tipo di movimento mettere dentro allestire cinturino piuttosto che il bracciale ve lo assemblate e con 200 euro fate l'orologio ma mi sembra che anche te poi nei vari video tu ne abbia scoperti diversi di questi pseudo marchi cinesi che poi producono con marchi finti piuttosto che con marchi inventati e qui è prodotto da catalogo da catalogo che può fare chiunque ovunque scolta mi stavo guardando ma c'è un paio di alpina che mi hanno colpito che non me li hai presentati perché te li vuoi tenere per te scusami un secondo ma questi due qua allora questa qui sarebbe una versione donna ma come da donna bellissimo è bellissimo però sono quarzi ecco è per quello che non vuole però guardate questo è veramente contenuto come diametro peccato che ha il quarzo perché se no era veramente piccolino piccolino anche sto qua però io ora chiamerò in Svizzera e dico che Davide Cecchini l'avrebbe comprato se fosse stato automatico chissà che nelle prossime edizioni più bisù non vedi come è bisù l'orologio l'orologio perché poi bisogna dire anche questo che poi i nostri amici a casa ascoltano noi che bello arancione verranno tempestati dalle pubblicità e questo qui sarà l'orologio che vedranno di più perché è l'orologio che andrà in comunicazione cavoli arancione così che bello sì che testate di giornali social network e via dicendo voi troverete questo orologio è anche comodo da indossare quello lì perché diciamo la ce la deployiamo sì c'è una deplo cinturinato gomma ovviamente come orologio diver è perfetto con quell'allestimento lì nell'orologio diver è un po' di colore non guasta mai cavoli se guasta bellissimo ero io arancione ripreso dal cinturino arancione questo qua è veramente bello stavi dicendo il discorso perché Alpina è da quest'anno che ha deciso di entrare nel mercato italiano se no non c'è mai stato no tra l'altro all'estero è un marchio molto conosciuto molto già venduto però in Italia volevano aspettare perché casamadre non voleva importare il prodotto in Italia forse oggi pensano che abbia raggiunto la maturazione giusta per presentarsi a un pubblico italiano che comunque sia il pubblico italiano ha una grande storia nel mondo dell'orologeria soprattutto a livello di design e sicché è molto scrupoloso purtroppo negli anni sono nati molti mercati emergenti che ci hanno un pochino sul classato a livello di numeri però l'Italia è sempre stato un parametro estetico di riferimento cioè un test ideale per tutto il mondo se l'orologio piaceva all'italiano all'italiano che ha un pubblico molto difficile da accontentare 99,9 su 100 sarebbe piaciuto a tutto il resto del mondo va bene usati ce no usati ce no davvero? sì andiamo a vedere gli usati andiamo a vedere gli usati dai poche cose ma tutte ma dai andiamo 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 a vedere un po' questi usati usati eccoci qua gli usatoni allora ah c'era i cugini dei diciamo una bella presentation guarda qua guarda qua guarda qua ti so cosa c'è ti so l'orologio penso più venduto della Tissot prima del PRX che è il gentleman il gentleman a me continua a piacere di più perché lo trovo un orologio più versatile rispetto al PRX è un 40 mm no? sì 40 mm è automatico powermatic 80 ruota in silicio scappamento in silicio insomma l'orologio che dice la sua tra l'altro quadrante blu che è il quadrante più venduto powermatic 80 simpaticamente bel quadrante dai simpatico l'orologio veramente carino stranconosciuto ho fatto anche la video recensione io cioè non c'è poco da dire su questo orologio qua nella sua semplicità è l'everyday watch poi pan 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 stato di nuovo cos'è? crono questo qui è l'avenger crono tra l'altro è l'edizione che è uscita da pochissimo per questo cliente era un po' grande questo orologio perché è un 44 ora l'hanno fatto anche da 42 però sinceramente stringere troppo i crono soprattutto con la meccanica con la B01 dentro secondo me non so se poi è molto conveniente poi ovviamente se avete il polso calibro di manifattura sì devo ancora rimettere le maglie Davide sì non fatemi dentro allora è un orologio che ha due anni di vita è stato portato tre volte considerate che questo orologio ha cinque anni di garanzia sicché siete ancora perfettamente dentro la sua garanzia ufficiale non entra come disse come disse non lo so lo possono dire un po' tutti non entra vuoi dire Rocco no? ah già Rocco potrebbe dire anche Cicciolina no lei gli entrava tutto seiko Cassasumo bello questo quadro sì edizione edizione limitata se guardi lì se giri la camera arrivo ce l'ho anche nuovo questo qui l'ho ritirato sicché avete due scelte o ve lo comprate nuovo oppure con un prezzo ovviamente interessante oppure ve lo comprate con un prezzo ancora più interessante usato tra l'altro l'ho ottenuto molto bene col suo cinturino in dotazione nuovo di pacca prodotto veramente bello mi piace quel colore va bene sto qua mi entra come disse sapevo che ormai basta Piero è una colpa tua anzi a proposito scusa ma ti interrompo ma come hai chiamato la tua scimmietta Giovannetta Giovannetta la scimmietta sei invidioso? no io non sono la Giovannetta me lo inquadri scusa me lo inquadro come disse bello mi piace anche a me sto qua bello un sei cosci un sei cosci ultimo orologio rimasto dalla precedente edizione cioè visualizzazione video era il Frederick Costant abbiamo venduti tutti è rimasto solo lui ah dai dai si che tra l'altro viene offerta a un prezzo molto interessante ricordiamo che questo è già movimento di manifattura Frederick Costant ore del mondo cassa e life con addirittura bracciale non c'è non c'è bracciale no 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 c'è 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 il bracciale di Tom sta cazzando usciva solo così usciva solo così simpatico l'ho già provato l'altra volta vuole vedere il posto di nuovo si c'è la scusa ecco lì ha addirittura non uno ma due cinturini ma c'è ragazzi c'è di tutto ma due cinturini due cinturini c'è il cassetto e gomma questo come sto tu stai sempre bene sei sempre più bello di tutti me lo diceva anche mia nonna non vedente bello perché qua c'è scritto bulgari sei curioso sono con la scimmietta curiosa altro orologio veramente nuovo cioè questo veramente nuovo 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 eccolo qui bulgari allora abbiamo parlato anche prima in trasmissione della linea 8 questo è sempre un 8 non è un finissimo ma è un Roma cavoli questa è la linea Roma ha un bracciale veramente stupendo ha la classica cassa bulgari un po' ottagonale l'orologio è veramente bellissimo eccedenti che bello solo che non mi sta porco di quel Giulio ci sono le magliettine da rimettere che sono lì sotto c'è anche due cinturini sì non ho ancora avuto il tempo di rimettere le maglie come vedete nella confezione è tutto corredato scatto la garanzia però io vi c'è lo sgancio rapido ci sono due cinturini aggiuntivo uno in coccodrillo e l'altro in gomma per renderlo un pochino più sportivo e vi frego subito se non mi sta l'abbracciare sai cosa faccio io tac li cambi lo regalo mi metto mi metto quello sportivo bello lo devo provare ragazzi non ho mai provato il bulgari Roma te stavi zitto non mi dicevi niente e lo lasciavo per ultimo allora a ore 12 ci va messo l'ardiglione vero? sì mi sa che questo qua c'ha come calibro c'ha quello ETA 2892 con il modulo Dubois de Pré Dubois de Pré va bene provo eh lo tiene con la manina perché ha paura che mi cade 9.900 euro di orologio che noi vi offriremo ovviamente a un prezzo strepitoso l'orologio l'orologio è praticamente nuovo tutto corredato scatola garanzia bello l'orologio bellissimo bello eh bello sì ma ma via che l'unetta che c'ha va bene dai lo rimetto a posto lo rimetto a posto faccio un prezzaccio lo rimetto a posto poi ho ritirato bellissimo un orologio è mio questo qua vende tutto però visto che non ho potuto vendere il suo posso vendere questo davvero uguale non vuol dire che c'è uguale che butto all'aria tutto è vero posso vendere questo lo scarto tutto e tadadà ma sei un tadadà ma sei un infingardo ma è nostro cioè io me lo sono messo non lo sapevo questo qui si chiama c'è il proprio questo qua lo conoscono tutti allora questo qui come vedete ha già subito un'ossidazione un pochino particolare l'ho ritirato non ho avuto ancora il tempo lo volevo trattare con il limone ma lascialo così lo lasciamo così se lo fa la persona a casa quando uno ti chiama lo voglio pulito glielo pulisci ok lo voglio così perché è meno bronzato del mio si meno bronzato del tuo perché è già stato ripulito mi ha detto il cliente che ha già fatto un passaggio di limone ma lì mi ha fregato c'è l'orologio guardando ora chi lo compra si compra no 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 però non c'ha l'eccezionale cinturino di John Custer John Custer lo sa anche lui ha visto che lo sa anche lui però se volete andate andate da John Custer e vi dà il cinturino uguale a Davide così tanto lui si diverte a fare questi qua mi manda le bestemmie perché ha fatto tutta questa va bene ragazzi che facciamo stiamo qua a pettinare bam a smacchiare i giaguari allora ragazzi eccoci qua come vedete siamo in tre siamo rimasti in tre cioè il buon Giacomo il buon Piero d'altronde quello che passa al convento è questo e niente io vi ricordo gli appuntamenti fisici che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su YouTube love iscriviti al canale